Ciao, questo è un messaggio audio evangelico scritto da Daniele Luciano Moscal di Parola d'Amore Ministris sul tema della felicità. Ripeto felicità. Beato colui la cui trasgressione è perdonata. Il cui peccato è coperto. Salmo 32, 1. Felicità è il popolo il cui Dio è il Signore. Salmo 144. Chi ascolta la parola con saggezza troverà il bene, e chi confida nel Signore. È felice. Proverbi 16 e 20. A Liverpool, in Inghilterra, c'era un famoso e amato comico di nome Sir Ken Dodd che aveva una canzone popolare numero uno intitolata Felicità. Alcuni dei testi dicono. Felicità, felicità, ringrazio il buon Signore, che sono benedetto, in vera sincerità, la maggior parte delle persone, inclusi i cristiani rinati, vorrebbe essere più felice di noi. Ma come? Alcuni pensano che se potessero viaggiare di più verso destinazioni esotiche e soleggiate, sarebbero felici e contenti. Altri pensano in termini più grandiosi, per esempio, che stabilendo la giustizia nella loro parte del mondo, sarebbero più felici. Altri pensano che si possa trovare gioia nell'apprezzare la bellezza della creazione o nell'esplorare la spiritualità. Eppure siamo continuamente confrontati con il fatto che qualcosa rovina le nostre imprese e si deposita come polvere su tutti i nostri sogni, le nostre visioni, i nostri obiettivi. La felicità derivante da queste cose è sempre fragile, si rompe facilmente e non può durare. La ricerca della felicità o il tentativo di aggrapparsi alla felicità diventa un peso? La nostra ricerca di una felicità duratura rimane vana finché non riusciamo a guardare dove il salmista dice che si trova fondamentalmente. In una relazione quotidiana viva e amorevole con Dio nostro creatore, che prima di tutto inizia con il perdono. Potremmo non pensare di guardare lì, perché sembra uno simoro che troveremmo la felicità considerando prima la gravità delle nostre trasgressioni e il nostro bisogno di perdono. Ma la parola ebraica per perdonato in realtà significa sollevato o rimosso. La felicità e la pace che desideriamo arrivano solo quando il peso del peccato viene tolto. E allora siamo liberi di godere di tutto ciò che la vita offre, senza chiedere alle cose o alle persone create di sopportare il peso di essere la fonte della nostra gioia suprema. Questa verità era l'esperienza cristiana di Agostino. Trascorse la prima parte della sua vita in un impegno sfrenato verso l'indulgenza. Poi, dopo aver letto la Sacra Bibbia e aver incontrato Dio nella sua parola, emerse dalla sua foschia, scrivendo in seguito, «O Dio, i nostri cuori sono inquieti finché non trovano riposo in te». Credi in ciò in cui credeva Agostino. La base della sua affermazione si trova nel versetto iniziale del Salmo 32. Non hai bisogno di camminare nella vita gravato dal peccato e dal dolore. Perché Dio ti ha offerto il perdono e una relazione con Lui tramite Gesù Cristo di Nazareth. Non hai bisogno di rincorrere la felicità come fa il mondo. Quando i tuoi fardelli sono sollevati e sai che Dio conosce il peggio di te e ti ama comunque, sperimenti una felicità fenomenale e duratura, nel nome amorevole e fedele di Gesù Cristo. Amen. La vera felicità, gioia e pace eterna può essere trovata solo nel Signore Gesù Cristo di Nazareth, perché non c'è nessun altro nome sul pianeta Terra che possa salvare la tua anima. Per donarti tutti i peccati commessi e darti una vita completamente nuova come un cristiano rinato che è stato lavato completamente nuovo attraverso e dal suo prezioso sangue versato. Perché senza lo spargimento del suo sangue da parte di Cristo non c'è remissione per i nostri peccati? Ma Gesù Cristo ha pagato tutto per te e me, circa duemila anni fa quando ha sacrificato se stesso sulla dura croce sul Calvario, prendendo su di sé tutti i peccati dell'umanità. Così che potessimo avere la libera scelta di credere che con la sua morte, sepoltura e resurrezione possiamo avere la vita eterna, invocando il suo nome misericordioso e amorevole, e confessando con la bocca e credendo nei nostri cuori che veramente Lui è Gesù il Cristo, nostro Signore e Salvatore, saremo salvati. Amen. Grazie mille. Ciao amici. Bye bye for now. Dio te benedica.